Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli, Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Vi ha lodato Gesù Cristo. Questa domenica è la domenica dell'amore, dell'amore del pastore per le sue pecore e dell'amore delle pecore tra di loro. Venite in queste poche frasi del Vangelo, otto volte c'è la parola amore, amatevi. E c'è questa parola, questo insegnamento di Gesù con la forza del comandamento. Vi do il mio comandamento. Quindi è un ordine, un ordine di Gesù che va ubbidito, va seguito. E poi c'è l'esempio di Gesù che dà la vita per gli amici. Vi ho chiamato amici. Ecco chiamare, ecco la vocazione. Noi siamo chiamati a essere amici di Gesù perché Gesù è nostro amico e ci vuole tra di noi amici. E queste immagini di Gesù che ci è amico e ci vuole bene, è raffigurato dall'immagine del pastore che ama le sue pecore. L'immagine delle pecore che si vogliono bene realizza il comandamento di Gesù che dice amatevi gli uni gli altri. Non so se voi bambini avete visto qualche volta un greggio di pecore. Fa impressione come stanno una attaccata all'altra. Sembrano proprio incollate. Ecco quindi anche quando si muovono sono proprio uno attaccato da questo, da proprio l'immagine di quello che voleva dire Gesù quando diceva amatevi gli uni gli altri, cioè state proprio vicini, voletevi bene, attaccati l'uno all'altro, nell'amore. Naturalmente il greggio sta ben unito ma davanti chi c'è? C'è il pastore che guida il greggio e che ama le sue pecore. Io penso che anche voi bambini se avete un gattino o un cagnolino vi volete bene, no? Ecco quindi Gesù prende questa immagine del pastore che vuole bene le sue pecore, le guida e delle pecore che si vogliono così bene da essere profondamente unite tra di loro. Ecco dunque qui possiamo dire è il Vangelo dell'amore che ci deve essere nel greggio di Gesù, naturalmente però questo greggio è guidato da il buon pastore che ci ama e ci vuole bene. Se voi avete visto qualche volta un vescovo ha in mano un pastorale, è un bastone particolare che si chiama così pastorale perché ricorda il pastore che ha in mano il bastone per guidare le sue pecore, che cammina col bastone e quindi le pecore sono unite dietro a questo pastore. Quindi il vescovo che ha il pastorale rappresenta Gesù il buon pastore e ogni sacerdote deve essere pastore per le sue pecore, per i suoi parrocchiani, le persone dove lui ha il parroco. E quindi dobbiamo vedere un po' le vocazioni in questo ordine di idee di amore, l'amore di Gesù per le pecore e l'amore delle pecore tra di loro. Il Vangelo di oggi sottolineava di più questo amore che ci deve essere tra le pecore, profondamente unite come il greggio, una attaccata all'altro, volendosi bene l'un l'altro. Questo è molto bello, però qual è la cosa più importante? La cosa più importante è che il pastore deve amare Gesù. Gesù è il buon pastore, il sacerdote deve voler bene al Signore. Diciamo che deve proprio avere un amore particolare. Ricordate Gesù che a Pietro ha chiesto tre volte, mi vuoi bene, mi ami tu Pietro. Pietro è il pastore più grande, come il Papa, il primo pastore di tutta la Chiesa. Mi vuoi bene, tre volte gliel'ha chiesto, per dire al massimo. E lui ha sempre risposto, Pietro, anche se si è ricordato che una volta aveva rinnegato Gesù, ha detto, Signore tu lo sai che ti voglio bene. Allora, se mi vuoi bene, pasci le mie pecorelle, pasci, cioè sii pastore delle mie pecore. E così il sacerdote, prima deve voler bene a Gesù, deve essere per così dire innamorato di Gesù, e poi deve voler bene alle sue pecore, pasci le mie pecore. Mi vuoi bene? Io ho detto a Gesù, sì ti voglio bene, ti voglio seguire, voglio fare come te il pastore di una parrocchia. E allora, pasci le mie pecorelle, fai tu il buon pastore, al mio posto, in questa parrocchia, dove ti mando. Ecco, l'importante è che il sacerdote non si pensi un manager, un professionista della pastorale, ma deve essere una persona che vuole bene, che ama. La cosa più importante è l'amore, non è fare chissà quali grandi cose, è voler bene alla gente, voler bene alle persone, curare ogni persona, come il pastore cura ogni pecora, conosce ogni pecora, certamente quando sono tante è difficile magari conoscere il nome, però l'importante è che ci sia questa relazione di guida, di amore, di affetto tra il sacerdote e la sua comunità e la sua famiglia. Però questo vorrei trasportarlo un po' anche nella famiglia, perché l'amore è importante nella famiglia. Un papà o una mamma deve essere del pastore dei suoi figli, quindi sentire proprio che deve avere un compito educativo di tipo pastorale. Mi sembra che oggi i genitori siano un pochino lontani da questa visione, che sono un pochino freddi, distaccati dei loro figli. Questo non è bello, non è positivo. Il pastore vive col grece, e così un papà o una mamma deve vivere per i figli. Questo è importante. Uno può avere anche una certa sua vita, una certa sua libertà, ma si è papà e mamma per i figli. Allora si è essere pastori dei propri figli. E bisogna essere pastori con amore. Questo è importante, come ci ricorda Gesù. Don Bosco diceva, l'educazione è una cosa del cuore, deve essere fatta con amore. E quindi è importante che ci sia questo. Io, qualche genitore dice, ma io ho paura di viziare mio figlio. No, l'amore non vizia mai i figli, l'amore. Se si vuol bene i figli non si viziano mai. Quindi bisogna sempre amare. Non si deve avere paura di viziare i figli, così tra virgolette, con l'amore, perché l'amore non vizia i figli. Anzi, i problemi dei figli nascono con la carenza di amore da parte dei genitori. Con le carenze affettive causano tante sofferenze. E devo portare i figli anche a 7-8 anni dallo psicologo. Perché non lo ami? Perché non lo segui? Perché non gli fai vedere dei gesti di amore, di affetto, di coccola, di attenzione? Lo segui. E quindi è importante davvero. Bisogna che noi capiamo, che i genitori capiscano, che i figli hanno sempre bisogno di amore. Sempre. E un amore deve essere senza condizioni, senza ricatti, senza minacce, senza insicurezze. Deve non avere la sicurezza dell'amore. E quindi è importante questo. Insomma, la felicità, la serenità, la positività, la salute dei figli nasce. E sta tutto nell'amore dei genitori. Un amore di buon pastore, di buoni educatori, dei propri figli. Questa è la cosa molto importante che dobbiamo. Non essere quindi genitori freddi, assenti, fiacchi, ma essere genitori caldi, sempre presenti, sempre forti, nel offrire ai figli un'osi di amore dentro un mondo dove non c'è amore. Perché magari vanno a scuola e trovano le cattiverie, trovano i dispetti, trovano i bulli, trovano i violenti, trovano gli indifferenti. E queste sono, diciamo, attorno a noi non c'è amore. Non c'è amore. Lo vediamo tutti i giorni, quante brutte storie. Però, almeno quando uno arriva in casa, gli si deve sentire amato. Deve sentire, cogliere dei gesti di amore. Questa è una cosa molto fondamentale e importante per il bene dei figli. E poi, venendo ancora all'amore, riusciamo a capire che la vocazione deve essere proprio un profondo desiderio di amore per Dio e per gli altri. E quindi è molto importante che ci sia però proprio un forte desiderio di amore dentro. Ecco, io ho letto la storia di un padre nel deserto, che c'era un giovane monaco, un novizio, che era incerto sulla sua vocazione, non sapeva se farsi sacerdote, se diventare monaco. E' andato da un padre spirituale, un anziano monaco, molto intelligente e sapiente, e lui gli ha detto, vieni con me nel fiume, vieni con me, facciamo un battesimo di purificazione. Quando sono stati nel fiume, lui gli ha preso la testa e i capelli e l'ha cacciato sotto l'acqua, con la testa. A un certo punto gli mancava l'aria, non aveva più respiro, ha cominciato a dibattersi e dopo l'ha lasciato andare. E poi il monaco gli ha detto, tu cosa desideravi in quel momento? Eh, desideravo respirare, desideravo l'aria. Ecco allora, diceva tu, la vocazione la devi desiderare in questo modo, come se ti mancasse l'aria, come se ti bisogna di respirare profondamente, perché se no non vivi. Ecco, così deve essere sentita un po' la vocazione. Quindi deve essere, per noi sacerdoti, deve essere proprio un innamoramento profondo del Signore e un grande desiderio di dedicarci al bene degli altri, di fare il bene degli altri, soprattutto il bene spirituale, poi anche altri beni, se c'è bisogno. Ecco, però bisogna sentirlo fortemente, come quando uno sta per morire e dice, ma io bisogno di aria, ho bisogno di respirare. Ecco, questo deve essere, quindi così deve essere forte. E penso che la stessa cosa, che si vive proprio anche nella vocazione sacerdotale, deve essere presente anche nel matrimonio. Ci deve essere, cioè, un desiderio fortissimo di volersi bene, di essere uniti, come quando uno dice, ma se non proprio ho bisogno per respirare, per vivere, per avere aria. Ecco, quindi mi diceva uno che ha avuto una crisi coniugale, una crisi in famiglia, che lui sembrava proprio che gli mancasse l'aria, che morisse, non avendo più amore, non sentendo più l'amore dell'altro. Ecco, quindi ha proprio questa... E allora vedete che però bisogna reagire davvero con un profondo respiro di aria, con un profondo senso di vita che si ha quando si ama e quando ci si vuole bene. E allora è importante questo, e qui è importante capire quello che dice Gesù, amatevi l'un l'altro. Gesù parla al plurale, però questo comandamento di amarsi gli uni gli altri nel matrimonio diventa più bello ancora, perché ci si ama l'un l'altro. Allora questo è un amore reciproco, guai se c'è l'amore soltanto dell'uno e non c'è l'amore nell'altro, o c'è l'amore dell'altro e non c'è l'amore nell'uno. E se finisce l'amore dell'uno, finisce l'amore nell'altro, oppure l'amore nell'uno e l'altro prende un'altra strada, che poi sono sempre strade a senso chiuso, strade chiuse. E quindi bisogna essere non un amore a senso unico, uno che ama e l'altro non ama più. Deve essere reciproco, amatevi, amatevi l'un l'altro. Nel matrimonio la più bella realizzazione del comandamento di Gesù di amarsi l'un l'altro. Deve essere quindi reciproco, vicendevole l'amore. Non che uno ama e l'altro no. Uno ama e l'altro se ne va per i fatti suoi. Uno è lì, aiuta, fa quello che può, e l'altro non esiste, non corrisponde. Questa è la crisi, quando arriva la crisi, è quando uno dei due non corrisponde più. Non è più vicendevole, non è più scambievole l'amore. E allora è finito. Gesù insegna davvero anche a volersi bene, ad amarsi. Non solo per i sacerdoti, che devono amare Gesù innanzitutto, e poi amare la gente, ma anche nel matrimonio ci deve vivere questo amore. Chiediamo alla Madonna, siamo nel mese di maggio, e preghiamola a lei, che è la regina dell'amore alla Madonna. E ci insegni davvero, non solo ad amare, diciamo, ai sacerdoti, ad amare veramente il Signore, ad amare la propria gente, ma anche nella vita coniugale, poi nella vita familiare. Questo amore reciproco deve essere molto importante. Anche ho parlato di marito e moglie, ma anche tra genitori e figli, questo amore è importante. Perché succede che a una certa età l'amore è finito. Il figlio non si fa più vedere, e il genitore pensa ad altro. Insomma, non è bello così. Ci si deve sempre voler bene l'un l'altro. E uno deve sempre chiedere, ma io, lui mi vuole bene, io gli voglio bene, com'è che faccio io a ricambiare? E così, come faccio io a volergli bene? Adesso però tocca a te, che devi corrispondere a mio amore. Cioè, bisogna che questa reciprocità va coltivata, va curata, sia tra marito e moglie, tra genitori e figli. È una cosa che dobbiamo... L'amore richiede lavoro, richiede impegno, richiede soprattutto questa accortezza, che sia veramente, come dice Gesù, reciproco l'uno, l'altro, gli uni, gli altri. Questo è la cosa fondamentale. Grazie.